Salve a tutti, sono Matteo Franchi, prodiginius della Vinindelli Auto e oggi vi illustrerò le funzionalità del Connected Drive BMW. Il primo passo per utilizzare i servizi Connected Drive in auto è quello di scaricare l'applicazione che si chiama BMW Connected da Apple Store o Play Store, crearsi l'account ed abbinare la macchina. Una volta finito il procedimento, che è una procedura semplice guidata, troveremo questa situazione qui. Tramite app installata sul telefono io potrò da remoto chiudere la macchina, aprirla, accendere i fari, suonare il clacson, localizzarla sulla cartina, quindi vedere la posizione dell'auto e la mia posizione che è rappresentata dal pallino blu che è il cellulare, attivare il ricircolo dell'aria e scattare una foto degli esterni nel caso la macchina sia provvista dell'optional Parking Assistant Plus, ovvero le telecamere a 360 gradi. Da Infovettura sarà inoltre possibile caricare, se necessario, gli aggiornamenti di software remoto che sono disponibili per le vetture con i D7, che è il nuovo sistema operativo come che ha questa X-EI che stiamo vedendo adesso. È possibile inoltre inviare delle destinazioni direttamente all'auto dal telefono, monitorare le attività che abbiamo compiuto e visualizzare il livello di carburante, l'autonomia, lo stato dell'auto, quindi aperto chiusa e lo stato anche di porte, finestrini e eventuali messaggi di check control, quindi pressione pneumatici e olio motore, la manutenzione e le funzionalità abilitate, ovvero quello che posso effettivamente fare con l'app. Dal control display della vettura è possibile tramite la sessione app andare a vedere le app installate direttamente in macchina. Tra queste abbiamo l'assistente personale che è l'assistente di intelligenza artificiale dell'auto, l'assistenza BMW con il Consiage Services che è l'operatore dedicato, H24 disponibile per ogni tipo di richiesta, l'assistenza clienti, le info paese, il calendario e la mail. Per usufruire di calendario e mail è necessario avere attivo un account Office 365. BMW Connect dell'app di cui abbiamo parlato prima. In questa sessione posso visualizzare i viaggi che eventualmente mi sarei inviato da app su macchina. Carrying Car e Experience Mode sono dei programmi predefiniti già impostati dalla casa che rispondono a situazioni specifiche, ad esempio situazioni di stress o situazioni nelle quali è necessario avere una sferzata perché ci si sente stanchi. Possibile inoltre visualizzare le news e il meteo, messaggi e il nostro centro assistenza. Tutti questi servizi vengono attivati e fruiti tramite la sim che è offerta dall'auto e quindi non consumano la connessione del nostro telefono ma passano direttamente dai servizi BMW. Abbiamo appena visto le funzionalità dei connecting drive BMW, grazie a tutti e al prossimo video!